adesso l'inchiesta europea in Europa con l'Italia tra Francia e Germania che sono poi collocate dentro il sito in inglese il sito di trasforma Europa e che in Italia hanno portato anche la pubblicazione eh sul lente abbiamo disponibilità qui del numero gratuito di sua testa ma gratuito se poi uno si impegna in qualche modo anche ad abbonare no, gratuito senza impegno che poi piace di abbonate no, no, gratuito però perfetto ci si è rossuta Paolo non avevo capito bene la formula è magica la rivista è lì e appunto vale la pena appunto leggerla e anche abbonarsi naturalmente. Alessandro poi Maurizio sempre con i tempi eh perché buon pomeriggio a tutti a tutte io sono Alessandro Scassalati e collaboro diciamo a Transform Italia da forse un anno e mezzo e ehm è stato per me un impegno ed è un impegno piuttosto eh rilevante perché una rivista settimanale richiede soprattutto se si vuole cercare di fare un diciamo una riflessione allargare l'orizzonte a un'analisi diciamo di sinistra sui processi e le contraddizioni e i conflitti che via via si dipanano nelle nella società e nell'economia globale eh partendo da uno sguardo quanto meno minimo diciamo eh puntato sull'Unione Europea e poi allargato al resto del mondo quindi uscire un po' da dal contesto italiano ecco che ehm è interessante però ecco tutta una serie di dinamiche si giocano in un contesto molto più ampio e e quindi stare dietro a questo lavoro eh con una tempistica settimanale per o meno per come lo tratto io che devo dire che sono contento di di aver trovato questo gruppo che appunto in una delle nostre prime riunioni di redazione avevo definito come comunisti anarchici e quindi con dove c'era una grande libertà di poter muoversi in termini di riflessione ma anche per esempio in termini di contenuti eh e in termini di lunghezza di cui degli articoli io sono uno che scrive sostanzialmente dei piccoli saggi perché è quello che io so fare nel senso che io sono un ricercatore sociale quindi ho sempre scritto rapporti di ricerca e e quindi eh però senza nessuna contestazione no? In altri contesti devi stare sulle tre cartelle famose no? Ottomila battute eccetera eccetera che è sempre un vincolo importante eh rispetto ai contenuti eh e quindi questa occasione io ho cercato di adesso velocemente ci vado eh di cercare di eh guardare un po' a quello che io ho fatto in questo in questo anno e mezzo con queste cadenze settimanali cercare di vedere quali sono qual è il qual è la linea qual è diciamo il il ragionamento che sta che tiene insieme tutto e considerando che ho sviluppato diversi temi il il tema generale che mi sono posto è quello di guardare eh diciamo al tema della eh della crisi del sistema di regolazione eh che noi abbiamo vissuto negli ultimi quarant'anni il sistema di regolazione dell'accumulazione eh che prende il nome di neoliberismo globalizzato e eh su questo io ho la mia la mia impressione è che sia stata dato una eh si è arrivato in crisi nel duemila la crisi del duemila e otto duemila e nove e che però da allora ci sia stata solo una risposta di tipo economico sostanzialmente che è stata quella dell'espansione monetaria che ancora oggi stiamo stiamo vivendo almeno in parte siamo nella fase di chiusura di questa che poi è continuata diciamo attraverso la crisi del covid e eh in parte continua ancora manca però è mancata e manca fino adesso una risposta politica che che sia in grado di definire come dire un nuovo sistema di regolazione eh rispetto al tema dell'accumulazione e quindi a una possibile eventuale espansione del capitalismo ulteriore eh il capitalismo è un processo competitivo dinamico soprattutto rispetto ai modi di produzione precapitalistici e resiliente in uno stato di continuo flusso e divenire è un modo di produzione perpetuamente rivoluzionario costantemente sotto sforzo per trasformare se stesso dall'interno mentre allo stesso tempo preme sulla capacità del mondo fisico e lo vediamo con i discorsi ambientali e sociali di sostenerlo negli ultimi decenni questo processo è diventato globale grazie alla deregolamentazione finanziaria alla globalizzazione dei flussi di capitale e alla scomposizione dei processi produttivi in catene di approvvigionamento del valore le cosiddette eh global supply and value chains che operano in una logica di organizzazione just in time questo sistema questa trasformazione è stata possibile anche grazie allo sviluppo della logistica globale un un insieme eh l'insieme delle attività organizzative gestionali e strategiche che governano nelle aziende i flussi di materiali componenti i peni e delle relative informazioni delle origini presso i fornitori fino alla consegna dei prodotti finiti ai clienti e al servizio post vendita questo sistema diciamo tutto a questo questo sistema eh 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 diciamo è andato è andato in crisi eh l'abbiamo visto con la pandemia e altri eventi calamitosi la guerra russia ucraina e la nuova guerra fredda fra USA e Cina che stiamo in pratica vivendo da qualche anno anche se ancora eh non in maniera tra virgolette ufficiale eh però tutto questo ha fatto emergere tutte le fragilità e le vulnerabilità di questo sistema ormai perennemente sotto pressione sull'orlo di una crisi strutturale eh si è parlato in questo in durante la pandemia e se ne parla ancora oggi di il i fenomeni come il reshoring cioè il fatto di ridicolizzare di riportare le aziende in occidente sostanzialmente eh eh e l'altro giorno la Yellen il ministro eh del tesoro americano ha parlato chiaramente di un qualcosa che ha chiamato friend shoring cioè eh la possibilità di rilocalizzare il sistema i sistemi produttivi quindi tutte le catene del valore eh non necessariamente negli Stati Uniti ma negli stati e gli stati che sono alleati degli Stati Uniti tanto per stare dentro un quadro di guerra fredda ora io all'interno di questo quadro generale ho cercato di eh come dire scandagliare cinque filoni principali. Il primo eh è quello appunto sulle caratteristiche e le crisi della globalizzazione cominciato ragionando sul passaggio dal fortismo al neoliberismo globalizzato sul ruolo dei capitalisti e nei e degli stati nazioni nazione sulla logistica e le supply chains appunto sulla stagnazione dei salari sulla disuguaglianza globale nell'accesso ai vaccini e le politiche economiche implementate da Cina, Stati Uniti, Unione Europea per uscire dalla crisi pandemica. Sull'obiettivo politico di far pagare le tasse ai ricchi e alle cosiddette global corporations. Penso per esempio all'accordo su un regime di tassazione minimo globale, la questione dei Pandora Papers, sono tutti temi che ho cercato di trattare. Sul sul ricorso eh sul ritorno alla normalità e il tentativo di addomesticare l'inflazione da parte dei banchi centrali è un tema che ho trattato più volte ultimamente e eh la prossima settimana anche in relazione a un eh seminario che faremo con l'osservatorio europeo franco russo ecco io farò una relazione sulle cause e le conseguenze dell'inflazione quindi un tema che insomma credo che sia cruciale in questo momento per cercare di capire che cosa sta per cosa sta succedendo eh eh sulla nuova guerra fredda nel contesto della guerra tra Russia e Ucraina Ucraina e delle relazioni tra eh Stati Uniti, Nato, Unione Europea, Cina e paesi non allineati. Uno degli ultimi articoli che avevo scritto era proprio su questa storia del ritorno del movimento dei paesi non allineati. Se andiamo a vedere all'assemblea generale nazionale unite le le due eh le due votazioni che ci sono state l'espulsione eh della Russia dal Consiglio dei diritti umani eh vediamo che eh diciamo si sta allargando più che restringerci il numero dei paesi che non vuole stare né con la Russia né con eh l'Ucraina per intenderci quindi né necessariamente né con gli Stati Uniti ecco quindi poi questo è un tema da seguire nei tutti nei prossimi mesi nel prossimo anno perché chiaramente è questo discorso della divisione in blocchi della frammentazione del sistema globale è un tema che ci portiamo dietro e si tratterà di vedere come questo progetto politico possa essere effettivamente realizzato. Le ultime cose eh sempre in questo filone sono state quelle sulla crisi della sicurezza alimentare e del debito dei paesi poveri che è uno dei temi centrali in questo momento in questi giorni c'è la riunione della Banca Mondiale e Fondo Monetario Internazionale a Washington discutono sostanzialmente di questo. Ricordiamoci che nel duemila e diciannove prima della crisi ci siamo lasciati della crisi pandemica ci siamo lasciati con paesi che andavano da eh dall'Equador a a tantissimi paesi eh asiatici dove c'è e del Medio Oriente dove c'erano rivolte popolari rispetto al fatto che c'era la crisi una crisi di 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 diciamo di austerità di di debito e e di sicurezza alimentare. Eh l'ultima l'ultima cosa che ho fatto in questo in questo filone è analizzare questa settimana l'accordo di fornitura del gas a Italia e Algeria perché questo è un altro tema quello appunto di trovare delle 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 dei paesi che siano disponibili a eh come dire a stare insieme con con Europa e con e con gli Stati Uniti. Eh un secondo un secondo filone che ho trattato è stato quello eh di aprire una finestra sugli Stati Uniti che mi ha portato eh a ragionare sulle elezioni del duemila e venti è stato anzi il primo articolo che ho scritto per Transform eh sulla pandemia eh da oppioidi perché questo è un tema su cui sono qui sono morti milioni di persone negli Stati Uniti soprattutto ceti eh popolari eh soprattutto nella Rust Belt cioè nella 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 diciamo nella parte del ex industriale no? Ecco morti per disperazione sulle limitazioni del diritto di voto c'è c'è un tutto questo tema di di una soprattutto portato avanti dai repubblicani di non far votare le minoranze sostanzialmente in particolare i neri e quindi costruire tutto una un processo sempre più difficile sempre più complesso invece di semplificare no? Per avere il diritto per esercitare il diritto di voto sulla crisi abitativa e su questo tema eh negli Stati Uniti ci sono circa un milione e mezzo di persone che vivono per strada cioè sono senza fissa di mora eh e io ho ho guardato a questo tema anche per la Germania quando c'era il referendum a Berlino sulla questione eh della eh espropriazione dei diciamo delle società dei dei fondi immobiliari che hanno più di tremila appartamenti cioè del Deutsche Wöning ha cento quindicimila appartamenti in a Berlino frutto di una privatizzazione del del come dire fatta negli anni novanta dal comune di Berlino de delle case pubbliche case popolari eh e poi ho fatto anche un ragionamento sul capitalismo dinastico il terzo punto diciamo su cui ho lavorato eh lo svolgimento di alcune analisi sulle eh sulle catene di valori di valore globali in particolare sull' economia e la politica della logistica ho fatto degli esercizi uno sul salmone cioè sulla la 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 come si dice la produzione industriale di pesce perché è è un è un settore particolarmente interessante secondo me e il cacao poi ho mi sono ho mi sono dedicato come quarto filone all'attenzione ai temi dell' agricoltura industriale e del passaggio da un modello di agricoltura ad un modello di agricoltura naturale agroecologica sociale sostenibile alla luce della crisi ambientale e climatica planetaria l'ultimo l'ultimo tema in realtà un tema che che diciamo non è proprio ben definibile è una serie di analisi relative alle crisi nazionali e regionali del mondo e qui sono andato veramente largo la guerra civile in Etiopia il colpo di Stato in Myanmar la Brexit e le eh il riemergere delle questioni di nazioni delle minoranze nazionali nel Regno Unito la crisi economica ecologica e migratoria dei paesi del Centro America il Brasile di Lula da Lula a Bolsonaro il regime eh nazionalista di Narendra Modi in India e le lotte dei contadini il Sahel tra crisi economica climatica eh geadismo e intervento militare franco-europeo i colpi di Stato in Sudan ci sono stati due soltanto negli ultimi anni e mezzo eh l'Iran nel passaggio dal potere dei moderati ai conservatori cioè quelli che adesso hanno il potere l'asse Italia Francia i casi politici di Polonia Ungheria Austria Danimarca e il futuro dell'Unione Europea insomma ho cercato di come dire di stare un po' largo ecco di 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 divertirmi a fare un po' di analisi grazie grazie Alessandro eh evidente trovate tutto questo sul sito e eh anche questo digest che abbiamo un prodotto eh sui vari filoni grazie Alessandro